Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qua con un tag che si chiama Book Tag. In totale sono sei punti con sei domande. Parto subito con la prima, che è V. Allora, il pezzetto è in inglese, quindi scusatemi le mie pronunce. Chi leggi? Quali sono gli autori, le autrici che leggeresti sempre, di cui non ti stanchi mai? Allora, Stephen King, non mi stanco mai di leggerlo, oppure Zafon, oppure, guardando invece le case editrici, per ora tutti i libri che ho letto di quella casa editrice mi sono piaciuti tutti, che è la casa editrice Idea. Poi, due, what? Cosa leggi? Quali sono i generi che preferisci? E cosa ti piace di sud-est i generi? Allora, io principalmente opto per i generi thriller gialli e mi piace comunque, mi piace tutto di quel genere. Più che altro anche i suspense, comunque le cose che ti mettono ansia in alcuni punti, vuoi sapere come va a finire. Poi, tre, when? Quando leggi, quali sono i momenti del giorno che preferisci per leggere? Allora, dipende perché quando lavoro, se faccio il mattino, quando arrivo a casa il pomeriggio, quindi il pomeriggio e un po' la sera, oppure, il contrario, nel caso faccio il pomeriggio, che faccio chiusura, magari un po' al mattino e un po' alla sera. Poi, quattro, where? Dove leggi? Quali sono i luoghi in cui preferisci leggere? Allora, in casa principalmente leggo in camera, o seduta alla scrivania, o mi siedo sul letto, perché fuori è difficile che riesco a leggere. Se in casa leggo, o magari quando vado, o aspetto il pullman, o aspetto il treno, o magari leggo qualche pagina. Però è difficile che leggo al di fuori di casa. Poi, cinque, why? Perché leggi? Quali sono le ragioni che ti spingono a leggere? Io fin da piccola leggo, anche se, come ho già detto in un altro video, ho iniziato a leggere vero e proprio, quasi alla fine delle superiori, comunque dopo. Sì, prima leggevo, però visto che andavo a scuola, leggevo ben poco. Leggo perché mi fa andare al di fuori della vita quotidiana, quindi mi immergo nei mondi della letteratura, in base a quello che sto leggendo. Poi, l'ultima è, come leggi? Quali sono i mezzi che preferisci per leggere? Audiolibri, ebook o libri cartacei? Allora, io leggo sia libri cartacei, sia in ebook. Gli audiolibri non li ho mai ascoltati, non so, non è che mi attirano più di tanto poi gli audiolibri, ma mai dire mai nella vita, scusatemi. Magari, in futuro, magari sentirò qualche audiolibro per vedere se mi può piacere o meno. E, come ho detto, principalmente le leggo in cartaceo o in ebook. Con questo concludo il tag, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.